... ... ... ... ... Mi è piaciuto il cartello. Ah, beh, credevo che magari... ...che fossi invecchiata a tal punto ...che non mi avresti riconosciuta più. Questo è Carlo. Piacere. Sono brasiliano anch'io. Prazer. Prazer. Sta con noi da quando era bambino. Deve essere come un figlio per voi. E tu devi essere ancora. Piacere. Vedi Carlo, adesso potrei parlare in portoghese. ... ... ... Marcello Bianchini fai cantane. Credevo che venisse anche tuo figlio. Dovuto restare al ristorante. Andiamo? Andiamo. Andiamo. ... ... ... ... ... ... ... ... ...